Benevento in finale, la città sogna la A, festeggiamenti fino a tardanotte nel capoluogo Sannita dopo l'1 a 1 di Perugia che consente ai giallorossi di giocare la finale contro il Carpi, ma Stella chiede di ampliare la capienza dello stadio Emiliano. Aiutò il boss in fuga, arrestato, avrebbe favorito la latitanza adorata del capoclan, lo russo, il padrino che amava il calcio, che assisteva alle partite del Napoli a bordo campo. In manette un 41enne aveva fornito documenti falsi al boss. Rione Sanità, nel mirino l'architetto Anticlan, bruciata la porta della Un Gallery dell'architetto napoletano Diego Nuzzo, l'indignazione dell'artista che accusa la cultura da fastidio, qui non si può vivere. ZTL al Duomo, città divisa. Dopo lo che del Ministero il Comune di Avellino accelera per l'attivazione della limitazione al traffico veicolare nell'area della Cattedrale del Centro Storico. Residenti favorevoli, commercianti perplessi. Movida fracassona, esposto in procura. I residenti del Centro Storico di Salerno dicono no alla Movida violenta, invocano l'intervento di Comune e Forze dell'Ordine. Presentata una denuncia alla magistratura, basta ubriachi e teppisti nelle strade. Blitz nel laboratorio delle griffe false. Migliaia di marchi delle griffe più note al mondo su abiti e accessori falsi sono stati scoperti dai carabinieri a Qualiano, nel Napoletano. Arrestate sei persone, l'opificio ricavato in un garage. Buongiorno e ben ritrovati con il nostro TG. In primo piano c'è il calcio e l'impresa storica del Benevento per la finale play-off. La città sogna la Serie A in pazzisce con Caroselli e Cori per tutta la notte. Intanto Mastella chiede di ampliare la capienza dello stadio Emiliano. Vediamo il servizio. Benevento sogna la Serie A e in città esplode la festa. L'emozione sul viso, le braccia al cielo e entusiasmo incontenibile per i tifosi giallorossi. La strega pareggia con il Perugia al Curi e conquista la finale per la Serie A. A Perugia Mister Baroni e suoi scrivono la storia. Piazza Risorgimento esplode e comincia una lunga notte di Caroselli e Cori. Il sogno si avvicina. I tifosi vogliono viverlo fino in fondo. Il sogno si avvicina. I tifosi vogliono viverlo fino in fondo. Il sogno si avvicina. I tifosi vogliono venire. Il sogno si avvicina. Non so stare senza te. La sera si solleve bene bene. Siamo per le fane. Incredibile e fantastico Benevento commenta dal suo profilo Facebook il sindaco Clemente Mastella che ancora in convalescenza per un intervento ha seguito la partita in TV. Per ora grazie ragazzi il sogno continua prosegue e oggi Mastella ha inviato una nota al presidente della FIGIC Carlo Tavecchio e al direttore generale della Lega Serie B Paolo Bedin e al prefetto di Modena Maria Patrizia Paba per invitarli a valutare la possibilità di aumentare la capienza del settore ospiti dello stadio Cabassi in occasione della finale di domenica 4 giugno. Saranno giorni d'attesa. La città si prepara. Tutti vogliono vivere la storia. Ed ora la cronaca. È stato arrestato il favoreggiatore della latitanza del boss Antonio Lorusso, il super latitante che assisteva alle partite a bordo campo. I carabinieri hanno arrestato Pietro Pedone, un 41enne di Napoli che aveva fornito documenti falsi al boss. Vediamo il servizio. Identificato e arrestato il curatore della latitanza di Antonio Lorusso, il boss dell'omonimo clan, finito nella lista dei latitanti più pericolosi e ricercato anche all'estero per associazione di tipo mafioso. Lo stesso boss, già condannato a 20 anni di carcere, che nell'aprile del 2010 riuscì ad assistere a bordo campo all'incontro Napoli-Parma. La sua latitanza finì il 14 aprile, di tre anni fa, quando i carabinieri del nucleo investigativo di Napoli e della compagnia Vomero lo individuarono e arrestarono a Nizza, in Francia, insieme a suo cugino. Oggi è stata eseguita un'ordinanza chiesta dalla DDA di Napoli a carico del favoreggiatore della sua latitanza, il 41enne Pietro Pedone, di Napoli, ritenuto contiguo al canno. L'arresto è il frutto di indagini proseguite dopo la cattura del boss. Infatti i militari gli sequestrarono una carta d'identità su cui era stata apposta la fotografia del latitante e una patente di guida falsa, entrambi documenti intestati appunto a Pietro Pedone. Intanto nell'ambito dei controlli dei militari, ieri nel quartiere di Chiaiano, area in cui il controllo degli affari illeciti è ritenuto sotto la gestione del gruppo stabile, i carabinieri del nucleo operativo della compagnia Vomero e della stazione Marianella hanno svolto 200 perquisizioni domiciliari per blocchi di edifici controllati nell'area battuta 500 persone e decine di auto e moto. Nella circostanza è stato rintracciato e arrestato per estorsione, rapine e furto Bruno De Leo, un 53enne già noto alle forze dell'ordine nei confronti del quali i carabinieri hanno eseguito un ordine di carcerazione della procura generale di Napoli perché dovrà espiare tre anni e otto mesi di reclusione. Una risposta fortissima dello Stato è in strada nei quartieri a rischio di Napoli e non solo, più nelle forze dell'ordine. Quanto è stato deciso nel corso del comitato di ordine e sicurezza pubblica che si è tenuto nella sede della prefettura di Napoli. Il prefetto Carmela Pagano ha più volte sottolineato la forte sinergia tra tutti i soggetti coinvolti. Il comitato è stato convocato dopo l'escalation di Aguati, sei morto in pochi giorni, che si è registrata a Napoli ma anche in altri comuni della provincia. E' un ride alla sanità nel mirino la casa dell'architetto anticlan Diego Nuzzo. L'indignazione dell'artista già nel mirino di Ignoti lo scorso capodanno vogliono camorra e morte nel Rione. Sono buoni castati. Vediamo. Una porta blindata anerita dalle fiamme e contatori del gas dove a malapena si legge il nome della scritta della ditta fornitrice. L'ingresso dell'appartamento al secondo piano del civico 20 di discesa sanità sembra un territorio di guerra all'indomani dell'incendio divampato nella notte tra lunedì e martedì scorso. In quella casa abita da 17 anni, quasi 20, Diego Nuzzo, architetto, scrittore, critico letterario napoletano. Secondo polizia e vigili del fuoco arrivati sul posto dopo l'una, l'ipotesi più plausibile è che si sia trattato di un incendio doloso. Qualcuno dunque avrebbe voluto lanciare un chiaro segnale, una intimidazione diretta al proprietario dell'appartamento che già lo scorso gennaio fu devastato da un incendio dovuto all'esplosione di fuochi d'artificio illegali. Ci furono le evacuazioni e le proteste, ma soprattutto il sospetto che si trattasse appunto di un'intimidazione. La notte di Capodanno qualcuno fece esplodere un petardo, così la riflessione partì naturale. Ora, dopo quasi cinque mesi, è tornata la paura in discesa sanità nel cosiddetto palazzo dei Marchesi della Micciatella. La normalità, si sfoga così Diego Nuzzo su Facebook, infastidisce certa gente. Venerdì scorso è inaugurato di nuovo casa mia. C'erano persone per bene, senza pistole nelle tasche. La loro è, come dico io, l'invidia dei boicastrati, dei maiali che sguazzano nel fango senza guardare mai il cielo. Ma noi non smetteremo mai di sorridere, di avere entusiasmo, energia, voglia di bellezza, desiderio di condividere, di trasmettere positività. Insomma, Diego Nuzzo, nonostante la possibile intimidazione, non lascerà il rione. Su Bagnoli siamo vicini a un accordo storico. Ne sono convinti tanto il ministro De Vincenti quanto il sindaco di Napoli, De Magistris. Pissa metà giugno la riunione che dovrà definire il percorso di riqualificazione dell'ex area industriale più importante della regione. Vediamo il servizio di Rossella Strianese. Su Bagnoli con il Comune siamo d'accordo al 99%. Così il ministro per la coesione e il mezzogiorno dei vincenti tende la mano al sindaco di Napoli. Luigi De Magistris a sua volta parla di intesa dalla portata storica. I segnali di distensione emersi già durante l'ultima visita del ministro si sono palesati dunque completamente in occasione del sopralluogo di ieri sui cantieri di Fuorigrotta e Scampia, dove De Vincenti è stato insieme al governatore De Luca. L'attenzione del governo sulla campagna continua, così come il dialogo che si è aperto finalmente dopo due anni di gelo durante il governo Renzi. De Vincenti, che da anni, da quando era sottosegretario alla presidenza del Consiglio, segue i progetti regionali di sviluppo, ha spiegato che a metà giugno ci saranno a riunione per definire gli ultimi dettagli prima della cabina di regia. Intanto si attende la decisione della Corte Costituzionale sull'articolo 33 dello Sblocca Italia relativo proprio a Bagnoli. Già il Consiglio di Stato ha sancito che il commissariamento del sito di interesse nazionale Bagnoli-Coroio da parte del governo è ammissibile per quanto riguarda le bonifiche, ma ha anche sollevato dei dubbi di costituzionalità sull'esproprio delle competenze in fatto di urbanistica e rigenerazione urbana, in capo per legge a Regione e Comune di Napoli. Gli ermellini dovranno anche verificare se sia legittimo ricompensare i proprietari dei suoli espropriati con strumenti finanziari a 15 anni che hanno un valore effettivo molto aleatorio e perciò il loro utilizzo sarebbe in contrasto sia con la normativa europea che con il dettato costituzionale. Stabilite le competenze, l'incontro di giugno annunciato dal Ministro potrà segnare dunque la vera svolta per le sorti di quest'area sulla quale sono concentrati molti interessi, ma anche molte speranze di sviluppo dell'intera area metropolitana. Si rinchiude nei locali della centrale idrica di sollevamento di Caggiano, in località Mattina, e minaccia il suicidio. Si alza la tensione nel Comune da sette mesi, i lavoratori dell'impianto sono stati licenziati ma hanno continuato a gestire la struttura che consente a Caggiano, Polla, Sant'Arsenio, Pertosa e Salvitelle di poter avere l'acqua in casa. Da giorni gli operai hanno deciso di avviare un presidio di protesta proprio per questo motivo in alcune località è mancata la fornitura idrica. Sul posto sono arrivati i carabinieri, i vigili del fuoco, un'ambulanza del 118, il sindaco del paese Giovanni Caggiano. Via libera dal Ministero dei Trasporti alla ZTL al Duomo di Avellino. L'obiettivo è tutelare il centro storico dal traffico e dalla sosta selvaggia. Abbiamo sentito commercianti e residenti che si dividono tra favorevoli e contrari. Il servizio è di Rocco Fatibeno. ZTL al Duomo arriva il via libera dal Ministero dei Trasporti. Il cuore del centro storico di Avellino verrà sottoposto al controllo dell'occhio elettronico con il riconoscimento delle targhe. Disco rosso dunque per le auto, ma non per tutte, potranno accedere infatti i residenti, i proprietari di box auto e i mezzi adibiti a carico e scarico merci. Il varco sarà posizionato tra via Duomo e rampa San Modestino. L'obiettivo è decongestionare il centro storico dal traffico veicolare. Probabile inoltre l'attivazione della sosta a pagamento. Abbiamo sentito commercianti e residenti. Quasi tutti applaudono all'entrata in vigore della zona traffico limitato. Ma c'è anche chi ipotizza possibili disagi. Qua è diventato un parcheggio selvaggio. T'ha poco da fare. Tutto Avellino, il parcheggio è qua sopra. Siamo prigionieri dei matrimoni, dei battesimi e delle comunioni, nonché dei funerali. Lo farei a orario. Per coloro che vengono alla messa la domenica e non possono muoversi, probabilmente troveranno delle difficoltà. Non riesco ad andare nemmeno nelle garoce, quindi per me va benissimo. Il centro storico va rispettato. Avere le macchine su questa piazza è stata sempre una vergogna e io mi auguro che questa storia finisca. Però il problema è che chi lavora qua ci vuole un permesso. Non è che poi aiutano tutto, come si fa? La soluzione ci vuole, il buon senso ci vuole. I residenti del centro storico di Salerno dicono no alla movida violenta e invocano l'intervento di Comune e Forze dell'Ordine. È presentato un esposto in procura. Siamo prigionieri di ubriachi, teppisti e sballo senza regole, dicono ad Otto Channel. Vediamo. Schiamazzi, danneggiamenti e disturbo costante non solo ai residenti ma anche ai turisti. Salerno si ritrova a fare di nuovo i conti con la movida fracassona nel centro storico. Una cinquantina di residenti hanno presentato un nuovo esposto in procura a farsi portavoce della rabbia di chi abita nei vicoli del capoluogo. Il presidente del comitato centro storico, Ermanno Minoliti. È stata fatta una denuncia da 46 famiglie che lamentavano lo schiamazzo notturno fino alle 4-5 di mattina, danneggiamenti, atti intimidatori da parte di ragazzi, insomma, anche molte volte ragazzini minorenni, ubriachi, spessissimo, che senza nessun controllo, senza nessun freno fanno nel centro storico, in particolare in questo momento su queste due piazze, quello che vogliono. Qui, questa piazza, che è la piazza di fronte al nostro Duomo, quindi alla cattedrale di Salerno, i gradoni sono frequentati la notte da questi ragazzi ubriachi, è un orinatoio a cielo aperto. Il risultato qual è stato? Il questore per la disegno si è interessato, però ha fatto fare solo dei controlli amministrativi. Noi avevamo chiesto delle battuglie in borghese, ma non dico assai, un paio di volte al mese, che facessero un po' di identificazione e di controllo su questi ragazzi, perché poi è facile, spesso, diciamo, sotto l'effetto degli alcolici e dei superalcolici, che vengono rivenduti, torna ripeto, anche a minorenni, è chiaro che poi è facile sballare e fare come è successo a una famiglia, a un intero condominio è stato strappato un citofono. A Salerno ci vuole turismo e movita di qualità, i cafoni non sono tollerati. Il Sannio ha ospitato il convegno regionale della Coldiretti, che ha presentato le nuove tecnologie destinate ai giovani agricoltori. Drone da far volare sui campi per raccogliere informazione e una app per restare collegati con le istituzioni in servizio di Alessandro Fallarino. Droni e piccoli aerei che scandagliano i campi alla ricerca di criticità, o semplicemente per verificare lo stato di maturazione delle colture. Poi un'app per tenere costantemente aggiornati gli agricoltori su finanziamenti, scadenze e tanto altro, che prima lo si poteva apprendere solo recandosi su macchinosi siti di regioni e ministeri. Cambia l'agricoltura e cambiano gli agricoltori. Questo è al centro del convegno regionale di Coldiretti, che si è svolto a Benevento. Numerosi gli ospiti presenti, tra i quali il vicepresidente nazionale e il presidente regionale Coldiretti, Gennaro Masiello. Noi oggi intendiamo mettere in campo con i giovani una sfida, una sfida che deve andare nella direzione di far crescere l'agroalimentare e quando cresce l'agroalimentare abbiamo dimostrato che crescono i territori. Ma è un'app interattiva, è un'app che dà la possibilità alle imprese di poter conoscere in modo diretto e immediato. Ormai con gli smartphone è diventato qualcosa di incredibile, eccezionale. Possono guardare quelle che sono le opportunità che vengono avanti da parte della regione in termini di bandi, ma possono anche avere notizie sull'andamento dei prezzi, delle coltivazioni, delle produzioni. Presidente, tracciamo un bilancio del post-alluvione ovviamente, come va la ripresa dell'agricoltura nelle valli sannite? Devo dire che la ripresa dell'agricoltura nelle valli sannite va bene a prescindere da quello che è stato l'approccio e di quello che è stato messo in campo sull'alluvione. L'agricoltura ha dimostrato di saper reagire, di saper accorciare le maniche e continuare per la sua strada. Era sfuggito alla cattura nel blitz dello scorso 24 marzo, quando i carabinieri del comando provinciale di Salerno, coordinati dalla Procura e dalla DDA, hanno arrestato 32 persone. I militari dell'arma hanno arrestato oggi Luigi Coppola, 58enne di Mercato San Severino, ricercato per associazione mafiosa, detenzione e porto illegale di armi, munizioni e distorsione col metodo mafioso. Gli investigatori ritengono che Coppola sia parte integrante del clan camorristico, fezza Dauria Petrosino di Pagani. Il latitante era nascosto in un casolare tra attrezzi agricoli e bestiame e ha tentato di fuggire attraverso una botola, ma è stato bloccato ed ora si trova in carcere a Salerno. I carabinieri hanno arrestato anche i due coniugi, entrambi pastori di Mercato San Severino. Verde selvaggio, degrado e rotonde nel degrado. Esplode la rabbia dei cittadini di Avellino dalla statua di San Francesco che scompare in via degli Mbimbo alla fontana artistica spenta di via Palatucci. Ecco quanto sporco e verde senza cura in città. Vediamo. La fontana artistica di via Palatucci è accesa a fase alterna a pochi mesi dall'inaugurazione. È versa nel degrado di una delle tante rotonde della città in cui il verde è selvaggio. È spenta da qualche giorno, però è un peccato perché la fontana è davvero bella. Qua non è possibile avere delle rotatorie con quasi un metro di vegetazione. Serpenti, tovi, animali che si possono ovviamente, come si dice, infrattare nei cespugli. Penso un po' un cosa brutto per l'Italia. Problema anche di ratti, di ratti molto frequenti, l'abbiamo visti frequentemente in zona, ratti addirittura serpenti, un po' di tempo fa addirittura serpenti. L'erba che fa schifo, la possibilità che escono animali, serpenti, i topi, non se ne parli i topi. Ma via degli Mbimbo di fronte alla chiesa del cuore immacolato di Maria la situazione è davvero paradossale. La statua di San Francesco, così cara alla pietà popolare, sta letteralmente sparendo tra alti fusti, erbacce e cespugli lasciati all'incurio. C'è incurio da parte del municipio di Avellino, il sindaco innanzitutto, perché non provvede a togliere questo schifo di erbacce. Sporcizia dappertutto e poi topi, morti pure in mezzo alla strada, perché giustamente in mezzo a queste sterpaglie. Ma è indecente, è una cosa indecente. Avellino non è mai stato in queste condizioni. È scandaloso, è scandaloso, non ho parole. Non sarà archiviata l'indagine sugli insulti sessisti ricevuti dalla parlamentare di Forza Italia, Mara Carfagna, sul blog del Movimento 5 Stelle, disposti dal GUP di Salerno. Ulteriori approfondimenti per risalire all'identità di chi ha offeso l'ex ministro. Sarà botte. Insulti alla parlamentare di Forza Italia, Mara Carfagna, sul blog di Beppe Grillo. Prosegue l'indagine da parte della procura di Salerno sulla piattaforma del Movimento 5 Stelle. A stabilirlo, il GUP Stefano Berni Canani, che ha accolto la richiesta di opposizione all'archiviazione presentata dal deputato. È stato inoltre disposto dal giudice per l'udienza preliminare un ulteriore approfondimento di indagine per risalire all'identità di chi ha scritto le offese sessiste incriminate. Ancora una volta dunque problemi giudiziari per la pagina dei grillini. I fatti in questione risalgono al 2013, quando la Carfagna, per rispondere ad attacchi politici ricevuti dai 5 Stelle, utilizzò modificando una frase del pittore spagnolo Goia. Il sonno della ragione a 5 Stelle produce mostri. Il tutto fu riportato sul blog di Grillo, da qui commenti pesanti con riferimenti ai rapporti personali della Carfagna con alcuni personaggi al suo passato nel mondo dello spettacolo, con appellativi di ogni tipo. Immediata la denuncia della parlamentare e la successiva richiesta di archiviazione da parte del PM Guarino, non essendo riusciti fino ad ora ad identificare gli autori dei commenti che utilizzavano dei nickname. La difesa della parlamentare azzurra ha però ottenuto la prosecuzione delle indagini e di avere da chi gestisce il blog i dati relativi a tutti gli iscritti, richiesta accolta anche dalla procura. Continua dunque la battaglia dell'ex ministro. Arresti domiciliari a Giuliano per 6 persone accusate di produrre capi contraffatti di note griffe. Il tutto si svolgeva in un garage utilizzato come laboratorio in cui i carabinieri hanno trovato 1700 capi di abbigliamento e più 2730 accessori sui quali la griffe sarebbe stata apposta successivamente. Non solo gli inquirenti hanno scoperto che nel corso della lavorazione sono state usate colle dannose per la salute. Per la produzione sono state usate punzonatrici, un forno per l'asciugatura, una macchina da cucire, un macchinario per la stampa e ancora cliché e punzoni per la realizzazione dei marchi. I responsabili erano già noti alle forze dell'ordine, tranne i due che erano incensurati di 26 e 31 anni. Fondi Porre, il vice sindaco Mazzoni in regione, dice risorse consistenti ma siamo in ritardo. Vediamo il servizio di Maria Teresa De Lucia. Herminia Mazzoni, vice sindaco e assessore alla programmazione europea, tira le somme dopo la riunione del primo tavolo delle città media a Napoli con il vice presidente dell'Aggiunta regionale della Campania, Fulvio Bonavitacola, incontro in cui ha avuto inizio la procedura negoziale che si concluderà con la firma dell'accordo di programma Asse Urbano Por Campania 2014-20. Quattro le direttrici sulle quali si dovrà costruire il programma per la città di Benevento sono il contrasto alla povertà, la valorizzazione dell'identità culturale e dell'offerta turistica, l'accessibilità dei servizi al cittadino e il miglioramento della sicurezza urbana. Il compito della città di Benevento sarà quello di organizzare in un progetto integrato queste priorità, perché poi le direttrici individuano altrettante priorità. Questa volta dobbiamo impegnarci veramente a costruire un'idea di città e per fare questo partiremo con una consultazione reale della collettività. Le risorse sono consistenti e purtroppo però ci ritroviamo in ritardo, perché si parte con circa tre anni di ritardo. L'agenda e la programmazione 2014-2020 e noi partiamo nel 2017. Sicuramente un'altra delle indicazioni che cercherò di seguire è quella di allargare quanto più possibile il partenariato pubblico-privato. Vorrei che dentro la programmazione della città ci fosse anche la partecipazione di quei privati attori della crescita e dello sviluppo del territorio. In occasione della giornata mondiale contro le dipendenze patologiche, il CERT di Avellino presenta al Circolo della Stampa la sesta edizione di Live Your Life, un evento per promuovere il talento giovanile e sensibilizzare ai corretti stili di vita. Rocco, fatti bene. Scalda i motori l'associazione Live Your Life. Tutto pronto per la sesta edizione della manifestazione promossa da ASLA e CERT di Avellino e dedicata alla prevenzione delle dipendenze patologiche. Il programma è stato presentato questa mattina nel corso di una conferenza stampa tenutasi al Circolo della Stampa. Si tratta di un progetto di peer-to-peer education per coinvolgere i giovanissimi attraverso attività creative promuovendo l'esperienza di un sano protagonismo che si fonda sulla valorizzazione delle attitudini di ognuno e sulla proposizione di esperienze e modelli positivi. Dall'arte alla fotografia, dallo sport alla danza, passando per la musica e la convegnistica, un vero e proprio festival che avrà inizio il 10 giugno. Non più i ragazzi destinatari di un intervento informativo o di prevenzione di qualunque natura, ma stesso loro ideatori e conduttori di questo intervento di prevenzione. Se uno vuol praticare stili di vita sani fondamentalmente non si diverte oppure per divertirsi c'è bisogno di trasgredire in maniera magari sbagliata. Ecco, la sfida è di poter provare anche a vivere momenti di divertimento in maniera più gustosa proprio perché uno non ha bisogno di una trasgressione chimica. Live Your Life vuole essere non solo, innanzitutto, lo ribadisco, contro le dipendenze patologiche, ma anche un luogo di proposta di corretti stili di vita contro le malattie sessualmente trasmesse, la corretta alimentazione, la guida sicura e quant'altro potrebbe a che fare con la salute adolescenziale. Un grande passo in avanti per tutti i malati oncologici salernitani. Un grazie all'accordo tra ASL e Federpharma i medicinali antitumorali saranno disponibili in tutte le farmacie della provincia. Vediamo. Basta file viaggi della speranza nei presidi distrettuali. Varie tipologie di farmaci, a cominciare da quelli utilizzati per la lotta ai tumori, saranno ora disponibili in tutte le farmacie della provincia di Salerno. Siglato stamane il protocollo d'intesa tra ASL e Federpharma. I cittadini che ne hanno bisogno possono prendere questi farmaci nelle farmacie vicino a casa loro. A mio avviso è un grande passo avanti, soprattutto in una realtà aziendale come la ASL Salerno, che è una ASL fortemente dislocata, dove il territorio che serve è molto esteso. Ci sono cittadini che vivono in condizioni di difficile, oro geografica difficile, diciamo così, quindi difficile movimento. Anche perché non dimentichiamo che i pazienti che hanno bisogno di questo tipo di farmaci sono pazienti che hanno dei problemi seri. Quindi anche per i loro familiari, quando loro direttamente non possono, è estremamente utile e importante poter avere una farmacia di riferimento. Oggi la firma di un importante accordo, quali sono i punti qualificanti dell'intesa? I punti praticamente sono medicinali, principi attivi, che prima venivano distribuiti dalle farmacie distrettuali e che adesso saranno distribuiti a partire dal 5 giugno presso tutte quante le farmacie aperte al pubblico presenti nella provincia di Salerno. Sia le farmacie private, sia le farmacie comunali. Quindi tutte le farmacie presenti nei comuni del Salernitano. Gli anziani insegnano agli studenti l'antica arte della pasta fatta a mano. Le immagini commoventi arrivano dalla casa di riposo di Don Orione, di Savignano Irpino. Vediamo. Maniche si intrecciano tra loro, impastate di carità e amore. Accade a Savignano Irpino, all'interno del centro medico sociale Don Orione, dove gli anziani ospiti hanno vissuto una giornata di luce e allegria grazie alla presenza vivace e coinvolgente dei ragazzi dell'Istituto Alberghiero di Gruttola di Ariano Irpino. È un ponte, un ponte del tempo, no? Tra chi ormai ha vissuto gran parte della sua vita e chi invece si affaccia alla vita attraverso una scuola che dovrebbe condurre poi a un'attività professionale che riporterà lungo il tempo futuro. Quindi è il tempo passato che in qualche modo arriva a conclusione è il tempo futuro che si incammina verso orizzonti prossimi. La vita in una struttura sanitaria per anziani non è il massimo che si possa aspettare, questo lo sappiamo. Quindi gli anziani sono qui, sono con noi, ma vivono un tempo di riflessione, un tempo anche di sofferenza. È inserita nel progetto Alternanza Scuola-Lavoro, ma in questo caso è stata portata anche e sviluppata da un punto di vista umano per, diciamo, incrementare quello che è un contatto umano con delle persone che rappresentano il passato e loro il futuro. Bellissimo è stato, sì, sì, è stata bella giornata, è bella. L'allegria va bene. I ragazzi sono bravi a fare cicatieli o no? Sì, sì, sono bravi, sono bravi a fare cicatieli. L'ho fatta sempre a Montecalvo. Era l'ultima notizia, il Tg termina qui. Grazie di averci seguito, vi lascio alle previsioni medio. Grazie a tutti. Grazie a tutti.